ciao a tutti raga bentornati sulla game 87 con questo nuovo video di forono raga questa volta gioco in dominio da solo con l'eylander come vedete senza i miei brocco cui gioco di solito e devo dirvi che con loro ho preso anche abbastanza sinergia ci troviamo abbastanza bene nel giocare almeno in coppie alcuni stanno migliorando altri sono già ben formati come rise per esempio ma ci stiamo lavorando un po con tutti anche loro prenderanno un po di esperienza intanto cerchiamo di farci questo priore nero che mi ha chillato raga fa niente ero un po distratto dal parlare intanto raga io vi ricordo che se non l'avete ancora affatto di iscrivervi al canale raga tanto per voi è gratis e non vi costa assolutamente nulla cerchiamo intanto di killare questo priore nero spezza guardia intanto sbagliato mandarlo contro il muro hyper armor niente ok questo è senza energia vediamo ok non ho ancora ben capito come funziona la punish del l'eylander ma cercheremo di capirlo ma strada facendo intanto l'abbiamo afferrato perfetto il kiosho in tempismo giusto calcio ok o ti ho afferrato di nuovo bam perfetto leggero facciamo attenzione a non morire ok oh perfetto raga ci è cascato alla grande intanto io raga vi ricordo che se volete giocare con me dal gamer 87 dalla playstation oppure mister puppet 2787 come profilo ubisoft connect aggiungetemi pure abbiamo discord abbiamo tutto quello che volete per i giocatori di tutte le piattaforme quindi siamo già abbastanza ragazzi su discord con cui si potrebbe anche cercare di organizzare qualcosa intanto l'abbiamo afferrato di nuovo perfetto perfetto facciamo attenzione in questa partita stiamo giocando devo dire abbastanza bene facciamo attenzione lo schiva no ok a vendetta cerchiamo di non morire restiamo il nostro amico qui ok piazziamo una trappola non si sa mai ah ho sbagliato ah che culo la schivata è diventata un attacco praticamente spammabile di nuovo sto priore nero ragazzi non si arrende noi cerchiamo lo continuiamo ad afferrare con questo condottiero ci stiamo trovando abbastanza bene anche se è random il dominio questa partita è piena di priori neri questi qua però non sono un granchè perché di solito muoio malissimo con loro intanto qui abbiamo fatto un grande perry calcio l'ha schivato spezzaguardia no attacco in schivata calcio di nuovo ragazzi perfetto distrutto distrutto grandi questo qua è venuto a morire gli manca solo un colpo ok infatti come voleva si dimostrare devo dire che è fatto veramente bene questo questo razziatore ok sta arrivando di nuovo il priore nero ragazzi impressionante non si arrende continua a venire qui intanto non so quante kill abbiamo già fatto bravo questo probabilmente se lo aspettava ok però lasciamelo afferrare ok qui sto spammando attacchi intanto questo qui è distratto dal kyoshin priore nero ragazzi la partita dei priori neri questo ok calcio perfetto intanto il kyoshin mi ha interrotto la mia trappola di prima ha fatto un casino ok perfetto stiamo giocando abbastanza bene abbiamo cambiato zona questo qui non ha capito niente schivata perfetto perfetto pam calcio ah ok ma niente mi aveva schivato la presa c'eravamo quasi ed era veramente una kill perfect ok ok grande perri intanto ci hanno lanciato la fiasca di fuoco i nostri amici stiamo giocando veramente ma veramente bene ragazzi facciamo attenzioni stiamo veramente pushando alla grande facciamo danno anche noi con questo con questa fiasca esplosiva mettiamo la trappola qui in sicurezza non si sa mai il nostro amico sicuramente killa quello la è infatti abbiamo sbagliato il calcio oh stiamo giocando veramente alla grande ragazzi non pensavo di cavarmela così bene con l'highlander attacco in schivata attacco in schivata ok ok questo qua ha capito mi sa il calcio non ci casca più qua mi sa che muoio malissimo sì però la vendetta la vendetta porca miseria calcio ok un andato sta finendo la vendetta porca miseria u2 andati però no non ci credo da ci eravamo c'eravamo quasi ragazzi ce li facevamo tutte tre peccato veramente peccato diamo un'occhiata al punteggio ragazzi abbiamo fatto 17 kill e due morti e non capisco infatti come i nostri avversari siano a soltanto neanche 100 punti di differenza da noi probabilmente la differenza la fanno le zone qui mi sa che sono andato a ficcarmi in un posto bruttissimo a sbagliate ha sbagliato sbagliato io perché hanno fatto lo scudo al momento giusto infatti non ho potuto killare nessuno questo mi sta caricando come un toro ok cazzarola i priori neri con tutti sti scudi ragazzi sono devastanti quando sono in clutch moment quando sono veramente a fine partita con questi scudi sono impressionanti hanno una difesa assurda guardate non sono riuscito a killarlo per fortuna ci ha pensato il mio amico questo qua spam attacca destra e sinistra bravi sembra veramente bravo guarda l'hyper armor niente non ce l'ho fatta ragazzi tra l'altro siamo andati in rotta io ovviamente sono morto quando è entrata la rotta quindi non posso neanche più spawnare e aiutare nessuno questa praticamente è il classico esempio su come non vincere una partita ragazzi non so come abbiamo fatto ma fa niente lo stesso abbiamo veramente fatto un'ottima partita intanto raga io vi ricordo che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale tanto per voi è gratis e non vi costa assolutamente nulla io vi ringrazio di cuore se vi è piaciuto il video mettete un bel like lasciate un bel commento e noi ci vediamo al mio prossimo video raga ciao